Ehi ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4 Nello scorso video sono arrivato a Reggio Emma nel futuro e Reggio Emma è totalmente distrutta Abbiamo superato qualche ostacolo per arrivare poi all'ultimo corridoio che ci ha trattenuto un bel po' Perché dovevamo sconfiggere diversi boss, togliere un po' di Yomagia Ma alla fine siamo arrivati davanti a Kaira e lo spettacolo non è di migliori Ventorio e Antuono a terra E Kaira immobile qui Al centro Maestà siete voi, che sollievo, finalmente vi abbiamo trovato È bello vedervi sono e salvo, forza andatevi a noi L'ho detto alla fine dell'episodio scorso io che Kaira sarebbe stato controllato probabilmente da vuoto scuro Quindi ora è un po' arrabbiato Umani E voi che cosa ci fate nel mio palazzo? Cosa? Non è possibile! Anche Kaira è stato colpito dall'incanto di vuoto scuro Non volevo arrivare a tanto ma non ho avuto scelta, devo annientarvi Ho già eliminato tutti i suoi ricordi, non è stato facile però Nonostante continuarsi a rifiutarsi alla fine sono riuscito a plagiarmi Maledetto! Come hai usato! Te la faremo pagare molto cara! Kaira vi prego tornate in voi, vostro cuore non è cattivo Cosa? Come ti permette di parlare in questo modo sovrano dei demoni? Io proteggerò questo palazzo! Forza umani, fatemi sotto! Anche con la spada bella! Inutile in combattimento ma molto bella da vedere A meno che quella lama non è infusa Di veleno Allora sì, allora sarebbe un buono Kaira demone La forma cattiva quindi di Kaira Sì, se lo raggiungessi è meglio eh Allora, vediamo un po' Potrei usare direttamente l'Energy Max degli altri Ma che gusto ci sarebbe? Ok Non so chi mi ha spinto via ma grazie Bomba Aia Ah! Che è successo? Dolore è successo Colpite ora che si carica Così magari forse riusciamo a evitare un attacco inutile magari Mi scambio con Jack, dai Devo attaccarlo quando però fa l'attacco anche lui Che si carica Così almeno sono sicuro di colpirlo Dai dai, dai Fai l'attacco, fai l'attacco Ok Perfetto Buono, preso Preso, sì Vai con un altro Energy Max ora Facciamo Call Facciamo Energy Max e Call che almeno posso muovermi col suo Facciamo Asura Si propuntalo Dov'è? Mi sa che non l'ho preso però Eccola là Infatti non l'ho preso Però mena Kai Mena coso eh Mena da far paura Ah l'ha presa eh Ah Dio Dio Cos'è successo Però Kairo si prende un bel knock eh Eh accidenti a lui Gli fanno male gli attacchi Gli fanno male gli attacchi, sì Bene Buona eh Bella lotta Bel match Bonus esperienza per due Perché ho preso la sfera E ci serviva la sfera Sia quella che mi ha dato il bonus esperienza Però non ho visto se era quella però Però penso di sì Bonus per due Per forza Ma sta Mi siete ripreso? Voi Mi avete liberato Mi dispiace Non so cosa mi sia preso Ascolta Emma Forse dovresti riprendere il tuo posto come re Dopo oggi non sono più degno Di ricoprire un ruolo così importante Per questo Ho deciso di lasciare il trono seduto a stante Kaira Gli ok world appartiene a te Ed è sempre stato così In fondo Ma almeno fondetevi Se proprio dovevi scomparire Fonditi con lui Almeno facciamo Yami Enma No Kaira E uno è andato Devo dire che è stato più facile del previsto Che tristezza però Vedere l'unico membro della tribù Kaira ridotto così In quanto a voi Congratulazioni Avete superato tutte le prove Bene È il momento della sfida finale Se volete restare qui lo capisco Non se ne parla Ritirarsi ora è fuori discussione Verremo con te Lo apprezzo molto Grazie ragazzi Stai a guardare Kaira Sconfiggeremo vuoto oscuro e ti vendicheremo Bene detective L'ora della battaglia finale è arrivata Forza andiamo Pronti Eccovi finalmente Shuka E tutti voi altri Siete pronti per la vostra disfatta Non credo di aver sentito bene Sarai tu a perdere oggi Proprio così Salveremo tutti i mondi E vendicheremo Kaira Samber ed Emma hanno ragione Per te sarà la fine Vuoto oscuro Esatto Ti faremo vedere di cosa sono capaci Detective Yokai Non siete cambiati affatto Da quel maledetto giorno Un palazzo come teatro E un mondo in pericolo È tutto come l'altra volta L'altra volta? Si può sapere a cosa diamine ti riferisci? Mi riferisco al giorno in cui Ho conosciuto la vera oscurità Ma tranquilli Dopo che vi avrò battuti Potremo parlarne quanto vorrete Forza Ok 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 Dai Che bellino eh Allora lui ovviamente usa le sue due Mani Anche stavolta attacco a vuoto Ma quanto mi devo avvicinare? Ah ok Non so Ah prende un solo danno così Ah Capito Ok niente No niente Ho sbagliato io a preme Ok la mano allora andiamo Prima le mani giusto? Cosa? Io cristallo Che roba è? Non ho ben capito cosa devo fare Ma ok Ah devo distruggerli tutti allora Però devo prima Ah se l'ha distrutti lui pure Se l'ha distrutti da solo Allora calma Ah mi ha ricaricato qualcuno Ok E che cavolo però No senti Allora Eh vabbè però Cazzarola Ecco grazie No no Allora Ma devo Come faccio? Ah così? Perché non mi andava prima allora? Boh ZR ZL ZR Ecco Eh se ce la facciamo però Non lo so Eh Che cavolo Non va Oh Allora Cosa devo Ah quello c'è ancora Ok 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 Vai 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 Niente allora questo Ragazzi però se me lo becchi per favore Ma Ma devo prendere da loro l'energia? Sì Io Boh Non lo so Perché non Non va Mi dice che devo urbare l'energia Ma a chi? Non si sa Non c'è un altro Un altro cristallo Eh Emo Lui non è C'è un altro cristallo da colpire Eccolo qua Non è male Ce l'abbiamo fatta alla fine Bene Vai Ok E' andato Questa è la prima fase immagino Ce l'abbiamo fatta? Mi pare Certo però che Li cristalli Non è facile A capire Io premevo Premevo Ma non andava niente E sì Premevo insieme Certo Non è che premevo una volta per uno Premevo insieme Ah e sfera mega Eh La sara non mi farebbe schifo Non mi farebbe schifo Non mi farebbe schifo Ma non mi farebbe schifo 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 Mamoru! Mi ricordo... Che cosa sia... Kento... Haku... Mi avevo... Stavamo... 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 La misora... Mi avevo... Mi avevo.. Si... Mi avevo... T'ponso che ii... Mi avevo... S'occhi, percibito... Mi avevo.. Mi avevo... Impeci... S'entrapprimi... 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 Finni... Grazie a tutti. 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 Vi ringrazio per tutto ciò che fate per me. A quanto pare siamo legati da molto più tempo di quanto pensassimo. So io a dover ringraziare te, Summer. Ho solo ricambiato il favore. Posso dire che non mi sembra affatto una vittoria? Beh, che dire, bentornata fra noi principessa. Sono contenta di aver vinto, ma che cosa ne è stato di Kaira? Eccomi qua, sono tornato. Stavate parlando di me? Paolo Pitta, uomo chiamato contratto. Ottimo lavoro, detective. Ero certo che ce l'avreste fatta. Non era morto. Re Kaira, siete qui? Come vi avete fatto a tornare? Eh, si vede che non aveva voglia di morire. Tutto a merito di quella piccola recita con Emma. Siamo stati bravi, vero? Dopotutto non avrei mai potuto lasciare morire la tribù Kaira. Fantastico, non mi aspettavo di meno da 3D Yo-Kai World. Poteva magari fare la scena, poi quando Soranaki stava un po' in difficoltà, arrivava lui, così Soranaki si spaventava e faceva un attacco a sorpresa più forte. Insomma, sapete come no? Il tuo aiuto si è rivelato a dir poco fondamentale. Ormai mi conosci, Emma. Farei di tutto per salvare il nostro amato mondo. Tra l'altro, il virus sta perdendo potere. Presto tornerà tutto alla normalità. I miei complimenti, Link. Hai salvato il mondo per la quarta volta. No. Sì, ma non è stato solo merito mio. Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Sì, ok. Finalmente i mondi sono salvi. Sì, è bello sentirvi dire queste parole. Siete sensazionali, ragazzi. Su, andiamo. Non credo che sia finita qui. Allora direi che ci becchiamo nel prossimo episodio. Perché qualcosa mi dice che bisogna tornare a Yo-Kai World, ma... Mi puzzo la faccenda. Amici, questo video termina qui. Nel prossimo andremo a vedere cosa succede a Yo-Kai World, perché mi sa che c'è la seconda fase del boss. La vera seconda fase. O un gioco di level 5 che non ha un boss finale con la seconda fase è molto strano. Allora, in ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili che servono per seguirmi e quant'altro. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.